ecco stanno grattando gli argini con la vegetazione ripariale hanno buttato giù i canneti il vecchio recinto con il paletto che ancora si vede quindi la prossima piena del vibrata non ci sarà più niente a proteggere gli argini e anzi tutti questi detriti dentro all'alveo finiranno al mare o per tappare i punti questi sono i lavori di sistemazione